Bella a tutti ragazzi, qua Orgasmic e sono qui con un video un po' insolito per il mio canale un video che non pensavo che avrei mai portato sul mio canale ma quando ho visto cosa abbiamo su questo nuovo gioco di FIFA 16 Ultimate Team davvero non ho resistito perché abbiamo qualcosa veramente di imbarazzante e ridicolo un video abbastanza comico direi perché abbiamo veramente dei giocatori con una capigliatura molto molto strana e particolare infatti questo video come avrete intuito e avrete letto comunque dal titolo in miniatura parlerà dei giocatori con una capigliatura molto strana i giocatori con i capelli più brutti di FIFA 16 quindi io direi visto che sono 10 giocatori di partire subito con il decimo giocatore che si chiama Estrela ed è un giocatore che apparentemente diciamo molto soft come inizio perché è il giocatore con tra i 10 i migliori capelli tra virgolette ha questa cresta altissima che sembra un'onda anomala davvero perché è davvero altissima si può probabilmente anche fare surf sulla sua testa perché è veramente imbarazzante gioca nell'Orlando City quindi in MLS per capirci la squadra di Kakà è davvero una capigliatura particolare andiamo in nona posizione e troviamo il nostro Simons penso si dica un giocatore del Bermuda gioca nel Chesterfield che apparentemente partono bene diciamo sopra la fronte i capelli poi esplodono guardate c'è proprio un'esplosione di capelli non si riesce a capire se sono ricci o cosa però veramente c'è un'esplosione di capelli veramente imbarazzante poverino questo Simons perché ha questi capelli veramente imbarazzanti ottava posizione troviamo Andrade giocatore come potete vedere del capo verde con un'ananas praticamente in testa perché ha dei capelli più o meno lisci o raccolti sopra la fronte poi appunto si raccolgono in questa roba in questa massa senza praticamente una forma dietro non so se sono raccolti proprio da dei capelli cioè c'è proprio un nodo di capelli o cosa veramente non si riesce proprio a capire però anche questo giocatore ha dei capelli un po' imbarazzanti figuriamoci poi chi troviamo nelle prime posizioni poi andiamo con una nuova posizione la settima se non erro cioè abbiamo Oduro come potete vedere Dominic Oduro giocatore veramente bestiale ma che quest'anno veramente ha dei capelli che non si possono proprio vedere ha questa diciamo fronte larghissima molto come si dice senza capelli e poi ha appunto i capelli raccolti come se fosse un vulcano con queste trecine un po' rossi un po' gialle un po' arancioni veramente sembra un vulcano che sta eruttando perché è davvero una roba incredibile inoltre i suoi occhi i suoi denti non lo aiutano moltissimo come apparenza perché è davvero bruttissimo come giocatore andiamo con una nuova posizione dove troviamo Barahona questo giocatore che è più o meno di colore ah sì direi di colore con queste sopracciglia nere e capelli bianchi sono tinti ovviamente perché in FIFA 15 scusate erano se non sbaglio rasati o neri non mi ricordo e adesso sono proprio bianchi bianchi ma di un bianco veramente orrendo l'ho messo in sesta posizione se non sbaglio perché davvero non si può proprio vedere questo giocatore poi andiamo nella top 5 e troviamo Agbetu giocatore nigeriano che gioca in Ligue 2 nel Le Havre che davvero ancora non riesco a capire dopo giorni che lo osservo ancora non ho capito che tipo di capelli ha sembrano rasati e poi che ha delle montagnette di capelli che non so se sono treccine o cosa raggruppati tra loro veramente bruttissimo sembra che ci abbia una stella in testa non so qualcosa mi ricorda un po' Maggie Simpson quando si mette la tutina lì per l'inverno mi ricorda lei non so perché comunque andiamo in quarta posizione e troviamo mi viene da ridere ancora a guardarlo Tievi Bifuma la bestia dell'anno scorso che anche quest'anno può essere interessante come giocatore ma qui commentiamo i suoi capelli perché ha dei capelli veramente orrendi ha la cresta più alta del mondo sarà alta tipo 3 o 4 metri qualcosa del genere ed è veramente inguardabile lui sorride ma c'è poco da ridere perché quando esci di casa così veramente sei messo molto molto male mi sembra tipo una rampa da skate la sua testa non so se avete presente andiamo nella top 3 ragazzi e qui entriamo tra i giocatori che hanno i capelli proprio più imbarazzanti e ridicoli del gioco e si parla di Johan Boli giocatore francese che gioca in pro league che ha dei capelli praticamente a metà cioè tagliati a metà non so se fossero tutti non tagliati quindi con tutto il suo ciuffo un po' riccio se fossero meglio di così sarebbero meglio di così non penso perché non sono bellissimi tanto meno così tagliati a metà proprio come se il parrucchiere si sia dimenticato proprio di tagliarle lì proprio la metà si è dimenticato di tagliare la metà dei capelli di Boli poverino perché è veramente qualcosa di imbarazzante poi non so se vedete ma tra i capelli lunghi e i capelli cortici c'è anche una riga che divide come se fossero due mari non lo so divide proprio i due tipi di capelli davvero una cosa oscena andiamo in seconda posizione un giocatore che probabilmente avete già visto e si tratta di Heri giocatore Bastien Heri che gioca in Football League 2 sì mica è francese Football League 2 e ha dei capelli orrendi cioè sono ricci neri con diciamo la parte sopra rossa di un rosso anche un po' più chiaro mamma mia ragazzi fa veramente paura questo giocatore tra l'altro come si vede nei commenti di Futed c'è anche una combinazione di colori tra i suoi capelli il logo della sua squadra e la sua bandiera quindi la bandiera francese è veramente incredibile proprio una roba sembra fatta apposta come se si fosse fatto questi capelli proprio per la sua carta per la sua foto di Ultimate Team davvero una cosa incredibile ma ragazzi non possiamo non ridere per quanto riguarda il giocatore in prima posizione quindi aspettatevi veramente una roba oscena stiamo parlando di Hamza Chaudhuri questo giocatore dell'Eister guardate qui che capelli ha una cosa oscena ha dei capelli assurdi sembra un microfono sembra avete presente i microfoni una roba incredibile sembra che la sua testa proprio la sua testa solo la sua testa sia diciamo i suoi capelli stiano quattro volte la sua testa io non so perché lui si sia fatto dei capelli così perché probabilmente è l'afro più grande del mondo tra l'altro su Futed mi dice anche Beast Rating 83 non so perché forse per i capelli appunto e io penso che questo giocatore quando deve andare a dormire non penso utilizzi il cuscino perché da quello che vedo non gli serve moltissimo comunque raga questo video era molto diciamo simpatico così giusto per fare un video un po' diverso dal solito spero vi sia piaciuto spero sia stato divertente fatemi sapere se avete trovato altri giocatori con capigliature o scene da mostrarmi perché io ho diciamo guardato solo una sessantina di pagine 60 o 70 pagine su Futed più di così non riuscivo a fare perché davvero stavo ridendo moltissimo appunto se avete trovato qualcuno di divertente fatemi sapere nei commenti lasciate un bel like se questo video vi è piaciuto e iscrivetevi al mio canale alla mia pagina facebook la mia pagina twitter nostro instagram tutti i link come sempre li trovate sempre in descrizione io vi lascio appunto ancora questi capelli di ciauduri ci vediamo al prossimo video bella raga